Ciao ragazzi Sono qui con un piccolo concetto che sicuramente avrete visto su Amazon Vendutissimo Ho preso la coppia da due Sono gli Spinner Fidget Cosa sono? Sono degli anti-stress Guarda, sono dei piccoli cuscinetti rotanti Che permettono di allenare le dita Vedete? Deve diventare un piccolo anti-stress La sta girando velocissimo Sembra che sta girando lentamente Fermiamo un attimo Ha tre cuscinetti esterni Per usarlo così Però questi che ho comprato non lo so Però macchiano un pochettino Perché c'è il grasso Invece quello centrale è ricoperto Da queste cose di plastica Che non si possono togliere Vedete come è fatto all'interno Ci sono questi cuscinetti Sono due, quattro, sei, sette cuscinetti Permettono di far ruotare velocemente Questo spinner C'è la versione bianca e la versione verde Ma le trovate nere, fucse e tutti i colori Qua c'è anche inclusa una pratica custode Trovate su Amazon Questo che l'ho pagata 10-11 euro Veramente un prezzo irrisore Sui 5 euro a spinner, a sfidget Come dicevo Questo qua serve come anti-stress O per allenare le dita Tutte quante le dita Io lo prendo così Faccio ruotare Questo qua è già di una qualità decente Ma vedete vi ho dato una spinta Sto facendo tanti giri Ho fatto 50 giri Questo bianco forse è un po' più duro Però anche questo gira velocemente Perché l'ho usato meno Ho usato di più quello verde Questo è il giochino del momento Lo trovate su Amazon Tutte le salse, tutte le cifre Non è nulla di che Un anti-stress per adulti e bambini O per allenare le dita Per chi ha problemi motori Però Non è niente di che Sono dei cuscinetti Così Questa versione non sono intercambiabili Ci sono altre che Ah sì Ecco qua Si possono anche smontare I cuscinetti Potete lavarlo Potete sostituirlo Con quello centrale Adesso non so come si fa Però Si sostituisce la parte centrale E poi si reinserisce così Però vedete Mi sono macchiato un pochettino Niente Quello come vedete Sta ancora girando Ancora Con il vento Sembra che Sta ancora girando C'è leggermente vento Sono all'aperto E continuo a girare È un segno che Sono di ottima qualità Se volete un giochino Da dare ai vostri bambini O per voi Come anti-stress Da usare Nei momenti Particolari Stressanti Consiglio comprato Costa poco Un giochino divertente Un giochino divertente Un giochino divertente